Vivere in circo, aiutarsi. Lasciate che i nostri figli possano riprendere le terapie domiciliari ripristinando la forma dell'assistenza indiretta. Le prestazioni da remoto attraverso monitor per ragazzi autistici, come si è deciso per loro, sono misure totalmente inefficaci. Le famiglie dei bambini autistici hanno bisogno di risposte concrete in assenza delle quali si rischiano conseguenze catastrofiche per i bambini e per la salute mentale dei familiari. E' soprattutto questo quello che si denuncia in un'accorata lettera inviata dal presidente dell'Associazione Autismo Fuori dal Silenzio, Alfonso D'Angelo, direttamente al governatore della campagna, al quale chiede aiuto. In essa si racconta della tragedia che stanno vivendo le famiglie con figli affetti dallo spettro autistico, evidenziando le enormi difficoltà di questi giorni che si vivono a causa della segregazione in casa dei soggetti autistici, costretti purtroppo a restare chiusi tra le mura domestiche e da fare a meno di tutta la loro routine quotidiana. Si attende da giorni la possibilità di iniziare in sicurezza almeno una parte dell'attività riabilitativa, in modo da non far peggiorare ulteriormente la loro condizione, scongiurare il peggio, perché il protrarsi di questa emergenza li condurrebbe ad un punto di non ritorno. Alfonso D'Angelo ricorda di essere il papà di Francesco Pio, che insieme a tanti bambini come lui, affetti da sindrome autistica, rappresentano in questo periodo di emergenza le vere vittime del Covid-19. Insieme ad altri 20 bambini, Francesco stava prendendo parte al progetto pilota dell'Asla Salerno, che prevedeva la presenza di figure e professionali, che in molti casi li seguivano già da anni a domicilio. A febbraio 2020 la Asla ha sancito la fine della sperimentazione, dopo che i nostri figli, scrive il presidente D'Angelo, si erano finalmente abituati agli operatori che li avevano seguiti in tutto il periodo della sperimentazione, costringendo a lasciarli per essere indirizzati in centri convenzionati. Poi, mentre si stava tentando di avviare questa nuova modalità del servizio, a seguito dell'emergenza coronavirus sono state sospese tutte le attività riabilitative dei centri convenzionati e a tuttora non sono ancora riprese. Il 17 aprile 2020 il direttore del DSM, nella quasi totalità dei rappresentanti dei centri di riabilitazione accreditati, hanno concordato, tra l'altro, l'erogazione a partire dal 20 aprile delle prestazioni assistenziali di sostegno da remoto utilizzando gli strumenti più idoni, videochiamate Skype e Zoom. Chi vive la condizione dell'autismo sulla propria pelle sa perfettamente che nessuna prestazione da remoto può essere neanche lontanamente sostitutiva della prestazione in presenza. Pensare che tramite un monitor si riescano ad erogare prestazioni riabilitative efficaci e di reale utilità di un bambino autistico rappresenta purtroppo una pia illusione che non porta nessun giovamento ai bambini, nessun sollievo alle famiglie, ma si traduce solo in un inutile spreco di risorse pubbliche. Dopo quasi due mesi di lockdown, con le scuole chiuse a tempo indeterminato e con i servizi riabilitativi convertiti in remoto, è stato chiesto al direttore del DSM della ASD di ripristinare la forma dell'assistenza indiretta come già effettuato positivamente con piena soddisfazione delle famiglie nella fase di sperimentazione del progetto, consentendo di riaffidare la riabilitazione a quei professionisti che per anni hanno seguito i ragazzi, ovviamente nel rispetto delle misure per la prevenzione da contagio da Covid-19. Tutte le famiglie si sono rese disponibili per una maggiore sicurezza a farsi carico del costo dei tamponi o test sierologici degli operatori, delle famiglie, purché i bambini riprendano le attività riabilitative e possano ritornare alla loro quotidianità. Ma tutt'oggi nessun riscontro è pervenuto. L'appello è pertanto all'assunzione di responsabilità da parte di tutti in questa difficile ma fattibile corsa contro il tempo e le difficoltà.